Buongiorno e ben ritrovati. L'ultimo incontro tra miure e sindacati che aveva come oggetto il comitato di valutazione del merito si è concluso con l'abbandono del tavolo delle trattative da parte dei sindacati. Durante il dibattito con il ministero Gilda degli insegnanti aveva segnalato le criticità di questo nuovo organismo come i poteri discrezionali ai fidati dirigenti e il bonus da assegnare ai docenti cosiddetti meritevoli. Il bonus si configura come una retribuzione accessoria soggetta quindi dalle leggi precedenti 165 2001 e 150 2009 alla contrattazione e per questo l'ufficio legale della Gilda sta predisponendo ricorsi. Ora dopo ben due settimane il ministero ancora tace e non resta, dichiara il coordinatore della Gilda Rino di Meglio che entra a prendere la raccolta delle firme per il referendum abrogativo e la modifica della legge 107 2015 attraverso la procedura parlamentare. E per oggi è tutto, un saluto da Gilda TV.